Cosa possiamo fare per lei? Voglio organizzare un funerale. Lei è nel posto giusto. Noce massiccio, maniglie in acciaio, quello che desidera. Un party. Cosa? Un party funebre. E voglio esserci. Le garantisco che lei ci sarà. Sì, ma voglio esserci adesso. Davide, lei desidera un party funebre mentre ancora in vita per andare via tranquillo? Sì o no? Ma certo! Voglio che vengano tutti quelli che hanno una storia da raccontare su di me. Quando ero bambino ho sentito le peggiori cose su di lei. Come può avvisarle perché vengano a raccontare storie su di lei? Cosa che credo farebbero, come dire, di corsa. È una mia impressione o quando vuole riesce ad essere estremamente eloquente? Dovremmo fare della pubblicità su qualche giornale, mettere qualche suo volantino. Voi volete che io rimanga così? Fai che io pazzo, attira molto di più. Io non ci posso credere. Un migliaio di anni fa era l'uomo più interessante che avessi mai visto. Mi chiedevo se ci fossi ancora tu sotto quella barba. Non avrei saputo da vendere. Ed eccolo qua, signor Felix Bush, il misterioso eremita della contea di Caleb. Come sta oggi, signore? Io sto. 40 anni senza nessuno con cui parlare. Perché ha fatto una cosa del genere, signore, isolarsi in quella maniera? Se vieni al funerale e lo scoprirai, riesci a far fare alle persone ciò che vuole lui. E forse non lo sa nemmeno lui. E adesso cosa vuoi fare? Nella mia vita ho fatto molte cose, ma mai una come questa. Molti di voi hanno sentito storie sul signor Bush. Ma oggi mi dicono che stiamo per ascoltare tutta un'altra versione. La sua. È giunto per me il momento di chiudere. È giunto per me il momento di chiudere.